Io penso che il Movimento 5 Stelle riesca a ottenere dei consensi perché è un partito completamente diverso rispetto agli altri e dato che il pubblico in genere, gli italiani, ne hanno un fine ne scatte della politica come si evince anche dall'affluenza alle urne, se trovano un partito che rompe questa tradizione monotona della chiacchiera alla quale ci siamo accodati anche noi questa sera, è chiaro che è a tratto. Allora quando va in cabina elettorale, l'elettore così, comune, che cosa fa? È da solo in cabina, si guarda in giro, non c'è nessuno che lo vede e traccia la croce sul Movimento 5 Stelle e fa così. Fa il gesto dell'ombrello, però io vi prego, io ammiro molto che riuscite ancora, scusa, perché è lì in cabina elettorale da solo e può fare quello che vuole, perché nessuno lo vede, si sfoga, vi manda tutti a fare in culo e si sente meglio, almeno per 30 secondi, poi se ne va per i fatti suoi, per l'amor di Dio. Ma io volevo dirvi che vi ammiro molto, che vi appassionate ancora a questi discorsi. Io invece vi prego di non invitarmi più, perché questi discorsi politici sempre sono... mi hanno rotto i coglioni in un modo pazzesco, per cui basta, per favore risparmiate la continuazione di questo discorso. Torniamo sul campo... È da solo in cabina, si guarda in giro, non c'è nessuno che lo vede e traccia la croce sul Movimento 5 Stelle e fa così. Fai il gesto dell'ombrello.